Oggi vediamo l'errore più grande che si può fare in un hotel. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti nel mio canale di marketing e benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo l'argomento su quale sia l'errore più grande che si può fare in hotel. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e come sempre alla fine del video vi aspetto nelle sezioni commenti per sapere voi che cosa ne pensate. L'argomento ovviamente può essere vastissimo, potremmo stare qui a parlarne, forse per mesi, degli errori più grandi che si possono fare in hotel, ma visto che questo è un canale dedicato principalmente alla comunicazione e marketing, voglio puntare i riflettori su questo aspetto. quindi non ho deciso qual è l'errore, l'unico errore e ho fatto una top 3. Quindi vediamo quali sono i tre errori in realtà più grandi che si possono fare in hotel. Medaglia di bronzo, non saper gestire gli OTA. Che cosa significa? Che i prezzi migliori sono su Booking, su Expedia e voi mettete prezzi più alti. Oppure i tuoi dipendenti non sanno gestire le OTA, quindi nel momento in cui parlano con un cliente e devono comunicare un'offerta, non si rendono conto che fargli un ulteriore sconto del 5% può essere utile rispetto a Booking perché tanto comunque ci guadagnerete sempre di più. Quindi questo è uno degli errori da medaglia di bronzo. Medaglia d'argento è non rispondere alle recensioni. E allora qua già prevedo alcuni commenti di chi mi segue regolarmente. Ma come? Lo dici in contiguazione che rispondere alle recensioni è importante e lo metti solo a secondo posto. Quindi pensate che cosa ci sarà al primo. Come dico sempre, dovete rispondere alle recensioni. Quante volte sento dire no, ma io non ho tempo, e forse sono recensioni false e quindi nemmeno le guardo, eccetera, eccetera, eccetera. Sento tantissime stupidaggini in merito. Invece rispondo alle recensioni è importantissimo. Ci aiuta con l'indicizzazione su Google. migliore rapporto con il cliente, anche se si tratta di una recensione negativa. Le motivazioni possono essere tante. Andatevi a vedere i miei video su video marketing. Ve lo spiego in continuazione. Sto cercando di farvi il lavaggio del cervello su questo argomento. Perché è importante. Invece viene visto come un aspetto secondario da fare nel tempo libero, se mi va. oppure viene dato questo compito al primo receptionist di turno, non sai manco se è adatto a occuparsi di un tema del genere, e che lo deve fare soprattutto nel tempo libero. Ci rendiamo conto che ha lavorato al front office, che a volte non ha il tempo libero, che inizi il turno e finisci il turno, che non sai manco come siano passate quelle 8-9 ore di lavoro. Cosa ancora più importante, che vedo tantissimo online, è che molti, quando rispondono alle recensioni, invece si vantano del fatto che rispondono male alle persone, e quelli è ancora peggio. Quindi, attenzione a chi affidate questo compito, dovete farlo, ma mi raccomando, controllate anche chi lo fa, perché chi risponde male alle recensioni del vostro hotel, ai vostri clienti, andrebbe sbattuto fuori a calci, perché vi sta rovinando. Ma veniamo al primo posto, medaglia d'oro, qual è l'errore più grande da fare in hotel? È quello di non adeguarsi ai cambiamenti del cliente. Perché voi potete anche rispondere alle recensioni, mettere i prezzi migliori su vostro sito e non sul booking, ma se ancora non avete capito che il turista è cambiato, queste cose non servono a niente. Un turista che adesso prenota più da dispositivi, da siti che siano mobile friendly, e quindi ecco perché preferiscono booking.com a vostro sito, da siti che diano una sicurezza nel punto di vista di protezione dati, perché ci andano a mettere la loro carta di credito. Un turista che non vuole più l'offerta dove gli metti i metri quadri della stanza, ma è un turista che va cercando un turismo esperienziale, quindi vuole che tu gli dia, gli trasmetta qualcosa sin dall'offerta, e quindi lui riesca a immedesimarsi e lui andrà ad acquistare l'esperienza che tu gli prometti, non i metri quadri o il letto a baldacchino. Queste sono cose che funzionavano prima. Quello che il turista verrà a comprare da te è, sono due giornate di relax, non la stanza con il soppalco, oppure la stanza con la vasca o con la doccia. Sono cose importanti perché magari alcuni ci tengono, preferiscono la doccia o la vasca per motivi personali, ma non sarà quello che ti farà vendere al turista moderno di oggi. Quindi, in questo lavoro, non potete stare lì, chiusi nel vostro hotel, aspettare che i clienti arrivino, o fare solamente accordi con agenzie, tour operator, eccetera, eccetera. Quello che dovete fare è studiare. Il turismo cambia. Così come è cambiato in questo periodo di covid, e così come continuerà a cambiare nel corso del tempo. Magari adesso ci sarà un assestamento, e quindi avete modo di rimettervi in carreggiata. Però, se non studiate come si comporta il turista, voi non sarete mai in grado di essere indipendenti e formulare delle offerte che siano dedicate a loro. Ora, spero che questo video sia stato utile e vi abbia fatto riflettere, perché ci tengo che gli hotel vadano bene e che davvero si metto in carreggiata. E magari, se volete, mi potete chiamare o mandare un'email per vedere se possiamo fare una chiacchierata privatamente. Come sempre, invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E vi aspetto nella sezione commenti per sapere cosa ne pensate. Besos!